Nuovo rinvio per il processo a carico del sindaco di Biella Claudio Corradino, ma solo di un giorno, infatti questa mattina in prefettura per impegni istituzionali. L'udienza è quindi fissata per domani mattina, il sindaco è apparso piuttosto amareggiato, non tanto con chi da anni lo osteggia e lo perseguita, tra virgolette. Parliamo del consigliere Stefano Rebello che ha presentato negli anni i chilometri di esposti in molte sedi, ma chi oggi a Biella gli sorride in consiglio comunale e poi lo pugnala alla schiena. Tra le righe si legge amarezza per il gruppo di Biella al centro, capitanata dall'ex sindaco Dino Gentile, che per primi hanno pubblicato la foto incriminata della macchinina cappottata a Graglia, in piena tempesta di neve. Il reato ipotizzato che dovrà discutere domani in procura è sempre peculato d'uso, a suo carico per i presunti abusi sull'utilizzo dell'auto comunale. Vista l'impostazione tenuta dai legali del sindaco nell'ultima indagine, quella per la nomina di un consigliere del Cordare, è possibile che Corradino, anche in questo caso, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Nelle scorse settimane sono sfilati al terzo piano del Tribunale molti dei soggetti che hanno in qualche modo avuto a che fare con la questione. A partire dal comandante della polizia locale Migliorini e dirigente della protezione civile, al vice sindaco Giacomo Moscarola, al segretario Lega Mosca, domani salirà al terzo piano del Palazzo di Giustizia anche l'ex coordinatore comunale della protezione civile Maurizio Lometti e alcuni volontari.